dal maker italiano Celso Fiocchi ti faccio vedere un modello custom creato completamente da lui è arrivato in un fogherino in pelle scanosciata fatto anche abbastanza bene grazioso con il nome del maker il coltello è un chiudibile molto particolare le guancette sono in montone chiaro ha una struttura liner in acciaio completamente portata a specchio il fondello è anch'esso abbiamo un fondello in acciaio con dei fori per il cordino pin loveless e pin mosaico degli spaziatori rossi e neri lama in n 690 ha anche un certificato davvero fatto molto bene l'apertura è a due mani come vedete la lama è portata parzialmente a specchio abbiamo il marchio del costruttore la manicatura segue il liner e fa una piccolissima guardia che comunque può essere bypassata in questa maniera sopra abbiamo una lavorazione della lama che segue sul frame e un grosso pulsante che è il back rock lo scatto è secco io non conoscio questo maker ma devo dire che il coltello è fatto molto molto bene all'interno è tutto portato a specchio la misura ha circa 85 mm si tiene abbastanza bene il coltello è molto bello come dicevo io anche le guancette in montone chiaro sono fatte abbastanza bene non conoscevo questo maker ma devo dire che fa dei bei pezzi celso fiocchi anter montone grazie a tutti grazie a tutti